Un mega arco per coprire il reattore numero 4 di Chernobyl e proteggere dagli effetti del disastro nucleare del 1986. La grande opera è stata inaugurata oggi con una cerimonia con i rappresentanti del governo ucraino, tra i quali il presidente Poroshenko e della Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo. L'operazione di traslazione, uno dei progetti ingegneristici più ambiziosi al mondo, è durata due settimane. In questo periodo l'arco è stato infatti fatto scivolare sul reattore della centrale atomica ucraina grazie a un sistema di martinetti idraulici. Ora si inizierà a smantellare le parti instabili del sarcofago costruito in fretta e furia 30 anni fa, dopo che il 25 aprile 1986 un reattore esplose rilasciando una vasta nube radioattiva e provocando direttamente molte vittime e poi la contaminazione di decine di migliaia di persone. La nuova struttura protettiva costruita in acciaio e disegnata per resistere almeno un secolo per prevenire il rilascio di radiazioni è larga a 275 metri, alta a 108 metri ed è costata un miliardo e mezzo di euro erogati dalla stessa banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. Alla sua realizzazione ha contribuito un'impresa di Pordenone che ha creato le strutture in acciaio ad alta resistenza che compongono l'arco. L'Italia ha inoltre contribuito negli anni alla messa in sicurezza del sito di Chernobyl con una somma che si aggira intorno ai 100 milioni di euro versati ai fondi ad hoc istituiti dalla banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.